si ragazzi l'avete capito stamattina sono di nuovo in assistenza ovviamente sono da solo stamattina per il semplice motivo che ci hanno beccato un po' di cose di stagione però niente di grave ovviamente poi prendere tempo per se stessi è sempre un buon rimedio ogni tanto la cosa che voglio parlare con voi che mi imbatto ogni cavolo di anno da un po' di anni a questa parte è come mai noi paesi europei che facciamo parte dell'unione europea quindi ci sono dei patti delle cose all'inizio del rapporto praticamente che si crea tra i vari stati parti dell'unione europea e non e quindi non riusciamo a parlare la stessa lingua nel senso almeno per le cose burocratici ovviamente io vorrei capire come faccio io avendo una proprietà praticamente in un altro stato pagare magari le tasse di quella proprietà nello stato dove sono ma non ovviamente al governo del paese dove mi trovo ma tramite un bonifico tramite un fondo monetario univoco tramite non lo so le tabaccai i poste un conto dove versare no non si può praticamente abbiamo creato tutte queste piattaforme online che tra l'altro quando si vanno a iscriversi oppure quando si vanno a fare le cose non non funzionano o si bloccano o ti danno 10.000 errori dove ti chiedono in pratica di avere un'assistenza da parte di un collega da parte di un ufficiale amministrativo che io non posso avere perché ovviamente non stando nello stato dove dovrei pagare le tasse del mio bene ovviamente sono da solo quindi se voi queste cose non le fate funzionare ovviamente uno come me ha difficoltà e non può neanche chiedere aiuto nel momento in cui si va a iscrivere o si va a pagare le tasse quindi ora mi tocca praticamente andare cioè chiamare più che altro capire come fare avere un IBAN che poi IBAN non è oppure avere un prestanome lì oppure chiedere a un parente di andare per me cioè dai ragazzi stiamo nel 3000 ma ancora così dobbiamo fare ancora delegare dobbiamo andare a delegare la gente ancora dobbiamo chiedere i favori quando si fa tutto online perché non funzionano questi benedetti siti e queste benedette cose che avete creato cioè prima di mettere praticamente una piattaforma o prima di testare un sito una cosa ma perché non andate a verificare funziona fammi fare a me il primo pagamento va non va mi riesce a reggere il traffico però secondo me io do la colpa anche di chi le crea e di chi sta dietro veramente del team tecnico questo è il problema ok assistenza fatta stamattina tutto a posto un altro cliente soddisfatto andiamo dalle pupe andiamo un altro cliente un altro cliente un altro cliente Grazie a tutti.